Ciao, sono Alejandro Mancarres, amministratore della Futurale Viaggi, con una bellissima notizia per tutti i nostri clienti di Rimini. Dopo la filiale di Cattolica, la filiale dell'area apriamo a Rimini, proprio in centro, su Piazza Tremarti, sotto all'orologio, dal 15 aprile. Quindi tutti i viaggiatori di nozze, i viaggiatori di gruppo, le famiglie che vogliono andare in viaggio, le ditte, chi vuole solo un biglietto, siamo dal 15 aprile proprio presenti sulla Piazza di Rimini, a grande richiesta, sempre col professionale team che ci caratterizza la nostra esperienza plurienale, siamo lì, dal 15 aprile Piazza Tremarti.